A quasi sei anni dalla sua scomparsa, la Banca di Credito Cooperativo non può dimenticare questa figura che sicuramente per la banca, per quanto riguarda tutta la sua attività prestata nel ruolo di Presidente del Collegio Sindacale, ma anche per la sua fantasia, per la sua capacità di saper affrontare i problemi, anche le cose che molte volte sembrano irrisolvibili. Quindi una grande fantasia, una persona che è stata per noi un riferimento. Quindi senz'altro riteniamo che questa serata sia un modo per onorare il suo ricordo e credo che tutta la città sarà coinvolta perché il teatro e la sede è sicuramente più giusta, anche perché lui era proprio un artista per ricordare la sua figura. Quando e dove si svolgerà? Il Teatro della Fortuna, il 9 dicembre, una serata totalmente dedicata alla sua figura, con lettura delle sue poesie, quindi alcune considerazioni, ma poi tanto divertimento perché ci saranno anche le compagnie teatrali, quindi due ore di spettacolo vero. I biglietti possono essere ritirati gratuitamente al bottiglino del Teatro della Fortuna? Sì, tutto gratis e ovviamente dando la priorità, la preferenza ai soci, quali il 2 e il 3 di dicembre potranno recarsi presso l'orario di apertura del botteghino e prendere almeno non più di due biglietti. Dopodiché gli altri giorni sono esattamente il 4, il 5 e il 9 per tutta quanta la città. Quindi chi prima arriva, prima avrà la possibilità, sempre due biglietti massimo. Sarà il momento anche per scambiarci gli auguri. Una banca che è radicata in questo territorio non poteva non ricordare questa figura.